Come iniziare a praticare la Muay Thai? E questa è una delle tante domande che mi arrivano attraverso i miei social Facebook, Instagram, attraverso qui YouTube e attraverso anche il mio sito internet www.stefananoardi.it. Come iniziare appunto a praticare la Muay Thai? Io sono Stefano Anoardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. La risposta a questa domanda come iniziare a praticare la Muay Thai è semplicissimo, basta contattarmi, ci sono varie possibilità di praticarla appunto attraverso delle lezioni online, attraverso dei corsi one to one, quindi individuali, oppure più avanti anche attraverso dei piccoli mini corsi, corsi di gruppo, mini classi. Naturalmente la Muay Thai è una disciplina adatta più o meno a tutti appunto anche a chi non ha mai praticato sport da combattimento o altre discipline marziali. Va ricordato però è fondamentale che la Muay Thai non è uno sport da combattimento ma è una vera e propria arte marziale, soprattutto la scuola Tarandevac che divulga appunto lo stile più antico quindi il Muay Thai e lo stile armato Krabi Krabong, tiene proprio a sottolineare questo aspetto. Lo scopo di praticare un'arte marziale non è come lo sport che potrebbe essere appunto rispetto al confronto agonistico ma praticare un'arte marziale significa effettuare un percorso attraverso la disciplina, attraverso questa disciplina e deve esserci proprio un'evoluzione del praticante. La scuola Tarandevac, la nostra disciplina appunto, la nostra arte marziale, racchiude all'interno varie discipline, vari aspetti di quest'arte marziale. Mi piace identificare la nostra scuola come un diamante, con varie facce e ogni faccia racchiude un aspetto proprio di quest'arte marziale. Ci sarà appunto la la parte a mani nude, magari più propriamente sportiva, la Muay Thai, la parte a mani nude tradizionale, la Muay Thai, la parte armata e Krabi Krabong, la parte meditativa con tutte le danze sciamaniche, guerriere meditative, tutte le tecniche di respirazione, le varie tecniche appunto per migliorare la propria forma fisica. Ci sono appunto tante discipline all'interno. Ognuno si appassionerà a un certo aspetto di quest'arte marziale, andrà a migliorare questo aspetto per poi un po' alla volta essere coinvolto in tutti gli altri aspetti della disciplina, migliorandosi completamente, tutto in modo univoco, in modo completo. Molti appunto mi chiedono, hanno paura di iniziare a praticare quest'arte marziale perché appunto hanno paura di essere buttati subito a fare combattimento, a fare sparring, a fare combattimento su ring con altri ragazzi, con altri attetti più avanzati. Bene, questo non succede e se vi capiterà di entrare in una, per essere un'arte marziale che vi buttano subito a fare combattimento, è sbagliatissimo, mi conviene andare via di fretta, perché all'inizio appunto verrà data importanza l'apprendimento delle basi, quindi la posizione di guardia, gli spostamenti, imparare i primi colpi che possono essere le gomitate, le ginocchiate, i calci, i pugni, combinarle insieme con i vari spostamenti, imparare delle tecniche di offesa, difesa, poi un po' alla volta imparare a usare i colpitori oppure sul sacco, poi un po' alla volta appunto inserirli, come dicevo, in alcune tecniche, queste tecniche poi inserirle magari in uno sparring condizionato leggero, ma tutto molto molto graduale, quindi vedete che la disciplina può essere adatta proprio a chiunque. E lo stesso discorso vale nel combattimento armato con le armi, con le spade, dapprima si imparerà i volteggi, la posizione di guardia, gli attacchi, difesi, i volteggi, poi inizieremo appunto a imparare i primi croma e inserirli in un combattimento armato libero tradizionale. E tutto questo appunto deve portare proprio a un'evoluzione del praticante e poi c'è tutto anche l'aspetto filosofico della storia appunto dell'arte marziale vera e propria. Praticare infatti un'arte marziale come la Muay Thai tradizionale nella scuola Taran Deva significa proprio evolvere, evolversi, anzi direi riscoprire la propria natura, il proprio io, la propria persona. Bene, quindi se avete altre domande non vi resta che contattarmi sempre tramite i miei social, Facebook, Instagram, YouTube e vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanella così ogni volta che caricherò un video appunto vi compirerò la notifica. Visitare il mio sito internet www.stefananoardi.it e visitando il mio sito internet ricordatevi di registrarvi nella sezione contatti, basta cliccare nella sezione contatti, lasciare la vostra mail, così subito vi arriveranno due schede di allenamento gratis e ogni settimana avrete dei contenuti esclusivi dove appunto cercherò di rispondere a varie domande che mi arrivano come questa portando anche la mia esperienza personale. Alla prossima, buona allenamento.